C'è Giuseppe Giannini di fronte a Luca Marcheggiani in un momento delicatissimo il calcio di rigore è stato assegnato da Luci per l'intervento di Negro Suttotti e il venticinquesimo del secondo tempo la rincorsa di Giannini il tiro, l'operato di Marcheggiani e Marcheggiani sventa il calcio di rigore di Giannini Marcheggiani si oppone al capitano della Roma rivediamo il tiro anche angolato di Giannini ma capisce in pieno la traiettoria del pallone Marcheggiani si distende sulla destra ed evita anche la ribattuta da parte dei romanisti rivediamo ancora la grande opportunità da parte di Giannini il destro del capitano della Roma era davvero sul pallone Marcheggiani delusione atroce